Debutta al cinema nel 1989 nel film Ladri di Saponette di E con Maurizio Nichetti, dove interpreta il piccolo Bruno, e nello stesso anno è anche nel cast del Bambino e il Poliziotto, in cui è co-protagonista a fianco di Carlo Verdone, che cura anche la regia. Nel 1992 ha un ruolo nel film Anni 90, nel quale interpreta il figlio di Nino Frassica. In televisione dal 1992 al 1995 interpreta Federico, il nipotino di Gino Bramieri nella sitcom Nonno Felice.